... per partire la MotoGP, Rosso, partito bene Hopkins direi anche Colin Edwards, vediamo Rossi sulla destra del teleschermo, è partito bene Hopkins, affionda in mezzo anche Stoner, va a girare in terza posizione forse, è all'esterno staccata. Guarda lo Stoner dopo questo lungo lettilineo, la Ducati ha fatto la sua differenza e si è presentato in seconda posizione, poi Valentino Rossi è uscito molto largo da questa che è quella curvina da parcheggio, diciamo così, quella manovra da parcheggio, una curva che si farà a 50 km all'ora, Stoner sembrava averse fatto passare davanti la Ducati questa volta che fa la differenza. Gli ha portato via la vernice, gli adesivi, qualsiasi cosa dalla carena di Rossi, questo è il pessimo recupero di Casey Stoner che stacca tutto di traverso con un Rossi che si fa molto pungente su Marco Melandri, qui bisognerebbe capire chi dei due ne ha di più. Dicevamo che Desmo 16, adesso diciamo che Rossi, che Rossi ragazzi, che Rossi, cose da pazzi, ha fatto un giro da paura, ha ripreso Stoner e l'ha messo nel mirino, quanto ha girato? 2-0-0-0, esattamente mezzo secondo più forte del Ducatista, 2-0-0-9 invece, 9 decimi più lento per oggi. Occhio là davanti ragazzi. Sì sì, teniamo sott'occhio. Combinata, me la sono combinata io da solo. Occhio, occhio qui davanti, hai due caccia, hai due missili, i due fenomeni qua davanti, la Ducati Desmo 16 con Stoner, è marcato stretto da Ringhio Valentino Rossi, che ha vanificato almeno fino a questo momento il vantaggio di velocità che aveva la Ducati. Mi sembra di vedere il catare. Occhio, occhio sta staccata dentro, è dentro Rossi, passa primo, mamma mia, spisciolava la Yamaha, spisciolava di brutto dentro, è davanti Rossi, Rossi su Yamaha, davanti a Stoner su Ducati, che coppia, Rossi primo, Stoner secondo, Yamaha Ducati, Rossi e Stoner e poi terza posizione con John Hopkins e Marco Melandri. Aspettiamoci la risposta di Stoner, che porta via un altro po' di vernice e anche di vetro resine di Carbonio Rossi, che si vendica in staccata, entra, carognescamente ma va largo e Stoner ne riapprofitta. Di nuovo la Dezbo sedici davanti. Beh, sì, è andato fortissimo tutto il weekend, quindi... Oh, che bella! Valentino, Valentino, eh, quindi non... Vediamo, vediamo, la risposta ce la daranno le gomme, per ora ci stiamo divertendo da pazzi perché questa è la sfida che volevamo vedere. Non li volevamo vedere necessariamente staccati per differenze prestazionali, ma rivederli vicini come li avevamo visti in Qatar. Qui c'è quel famoso margine della Ducati che... Mamma mia, mamma mia. Per certi versi... Ah! Occhio dentro! Siamo in moto con Rossi che si infila con un'altra... Che zonage, che zonage, non è dove aveva passato prima. Staccata da panico, da panico, balza il cuore, sfonda la camicia e Rossi passa davanti a Stoner. Sì, 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 nella parte finalissima della gara. E qui c'è anche la possibilità che Stoner stia amministrando, per ora, non lo sappiamo. I giri in 59.8 amministrando! Oddio, 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 è lungo per forza. È lungo, vado sulle, addirittura sull'erba. Ehi, ciao. Qui si è fumato... Ciao. Qui si è fumato due posizioni, mannaggia, mannaggia, Rossi. Adesso qui... È la possibilità, si è fumato. Vediamo, adesso qui gli si gonfia la vena, sicuramente... Eh, la staccata qua... Guarda come è lontano, non poteva pensare... Eh, ciao. Ha proprio sbagliato la frenata di Brutto. Managgia, ma... Vi ho chiesto, in ogni caso, siete contenti perché John sta ripetendo in gara le ottime cose fatte in prova? Lo ha detto, sì, senz'altro. Non dimentichiamo che ha davanti i due migliori piloti al mondo attualmente. Casey Stoner, Casey Stoner, Va Stoner, 16 ottobre 1985. A Curri Curri, località da predestinato. Nasce Casey Stoner, un giorno gli arriva una Ducati sotto il sedere e comincia ad impazzire, a fare impazzire gli avversari. Che Rossi vorrà facilmente dimenticare. Si volta e lo vede lontano e capisce che un'altra volta sta vincendo sul fenomeno. E che quindi, un po' fenomeno anche lui. Sì, è un gioiello che dà lezione di tecnica a tutti nel mondo. Perché, cavoli, avere una moto italiana che vince tre gare su quattro e che va così forte sul dritto, con un motore così spaziale, consuma così poco, vuol dire che davvero dobbiamo insegnare, stiamo insegnando al mondo come si fanno le moto da corsa. Che bella moto, che guardavi la Ducati con uno sguardo un po' strano, un misto di ammirazione e di invidia, no? Sinceramente, in tutta la mia carriera non ho mai corso contro una moto che va così più forte delle altre. Grazie.